Quattro diversi scenari di laghi italiani. Due approcci di pesca differenti. Feeder versus colpo. Divertimento, passione e memorabili catture. Giuseppe Trani. Per lui la pesca è sinonimo di relax e divertimento. Ha un passato da agonista e negli ultimi anni si dedica totalmente al feeder, proponendolo in tutte le sue varianti, in fiume, lago e mare. Le sue scommesse in gara sono sempre imprevedibili. Chi la vince là? Non lo sappiamo! Damiano Bottegoni, agonista e professionista della pesca. Ama pescare al colpo e all'inglese. Ordinato, meticoloso e con un atteggiamento sempre molto competitivo. Chi vincerà la sfida invernale? Tubertini Lake Winter Challenge. Prossimamente su Italian Fishing TV.